Buongiorno, buongiorno dalla redazione di TV7. Buongiorno da mattino 6, in questo sabato 5 dicembre, a tenervi come sempre compagnia nelle prime ore di questa giornata. Ampia rassegna stampa con le testate nazionali, alcune prime pagine, poi le testate locali, alla fine chiuderemo anche con le pagine di sport. E tanti come sempre i servizi da riproporvi realizzati dalla nostra redazione con l'aiuto chiaramente dei giornali. Partiamo subito con la rassegna stampa vedendo la prima pagina del Corriere della Sera. USA, il marchio dell'ISIS sulla strage. La moglie di Farouk giurava fede al califato intesa nell'Unione Europea ai nomi di chi vola. Registrati per cinque anni la rivendicazione in rete. L'FBI è terrorismo. Iraq giallo sulle truppe turche nella regione di Mosul. E poi in basso il coraggio della pulzella piace agli under 30. Giovanna d'Arco alla scala, Pereira vorrei le famiglie in platea. Poi in taglio medio le previsioni dell'Istat sulla crescita che rallenta il census Italia in letargo. PIL allo 0,7%. Renzi dice ma siamo ripartiti. In basso questa polemica che è esplosa nelle ultime ore è Vecchioni per amore insultò la Sicilia. Il cantautore contro l'isola diventa un caso politico. Poi spiega io parlo per affetto. La prima pagina ora della Repubblica. Anche in questo caso in primo piano o quanto accaduto negli Stati Uniti. I killer seguaci del califo. L'Isis esulta. Colpiremo ancora la US che dai viaggiatori. Berlino sì alla missione in Siria. Libia jihadisti all'attacco. Poi ancora il Quirinale consulta. Basta vetti l'amarezza di Mattarella. Vulnus grave. Ora serve scatto di reni delle camere. Poi ancora andando in basso queste notizie nella parte bassa della prima pagina. La polemica, unioni civili, il falso fantasma dell'utero in affitto. Vati l'X, l'SMS con ricatto. Date un posto alla sciacchì o è pericolosa? E poi il caso se il carcere cancella la nostra Costituzione. Prima pagina ora che andiamo a vedere, quella del giornale. Il governo dà i numeri, le bugie di Renzi sui nostri soldi. L'Istat smentisce le stime del premier e di Padoan. Il PIL resta inchiodato a un misero più 0,7%. È ufficiale. Troppa austerity aiuta il nero e l'illegalità. Poi guai a sinistra. PD salta il tavolo primario e scoppia il caos. Elezioni. Capitale paralizzata. Se le bizze di 300 sindacalisti bloccano per un giorno Roma. Accordo antiterrorismo tra gli stati dell'Unione. Schedati tutti quelli che volano intanto in Italia. Un convertito fa propaganda all'Isis sul web e nessuno lo ferma. Zuppa di Porro. Nella rubrica curata dal giornalista Nicola Porro. Zichichi boccia l'ecocatastrofismo scientificamente inattendibile. E poi ancora l'Isis rimendica. La strage negli Stati Uniti non è delle armi ma degli islamisti. E poi in basso la rubrica Rosso Malpelo di Paolo Guzzanti. E la Russia, la nuova, America. La prima pagina ora del Fatto Quotidiano. Nessuna crisi. Il PIL salvato dai criminali. La parte sporca monta 206 miliardi di euro e il 12,9% del totale. Evasione, lavoro nero, droga e prostituzione. In crescita nel 2013. Sotto la testata. Il mistero. Corvi è un suicidio. La questura di Milano assediata dai veleni. Polemiche accuse. E un'indagine finita nel nulla. Autografi sono il terzo sgarbi. Anche se Vittorio e Betti sono miei figli. A 94 anni è diventato uno scrittore di successo. Poi la fotonotizia. Rimendicazioni in rete. La strage in California dedicata al califo. Poi ancora in taglio medio il sorpasso. Tele Renzi supera Tele Caimano. Così il premier occupa le TV. In sei mesi di TG. 13,9% di ascolto. Stracciato Berlusconi dei tempi d'oro. Meglio c'è scritto B. Ma si intende. E poi in basso polemica. Zara ma quei manichini. Il problema è il toporagno. Per i modelli espositori troppo magri. E andiamo a chiudere questa prima parte. dedicata alla rassegna delle testate nazionali. Con la prima pagina del messaggero. Anche in questo caso in primo piano la rivendicazione dell'Isis sull'attentato negli Stati Uniti. Marchio Isis sulla strage in USA. Rivendicazione del califato in casa dei killer. Un manuale di Al-Qaeda. L'FBI parla di terrorismo. La Germania dà il via libera ai jet in serie. Allerta a Londra dopo i primi raid su Racca. E poi sotto la testata la polemica. La Sicilia è un'isola di puntini puntini. E bufera su Vecchioni. Campionato Lazio-Juve 0-2. Pioli in crisi. Oggi la Roma a Torino. L'editoriale di Agno Dinolfo. Mossa di Merkel e Cameron per togliere la scena a Putin. In questa coalizione anti-jihad. E poi Roma il calvario dei trasporti paralisi alla vigilia del Giubileo. Pronto il piano di difesa civile. Taglio medio rallenta la crescita del PIL. Renzi ma siamo ripartiti. Stime Istet allo 0,7%. Manovra a minimi aumenti per pensioni basse. Il provvedimento banche. C'è il fondo salva risparmi. Rimborsi soltanto per gli indigenti. Possiamo andare in basso. L'ultimo titolo che vediamo di questa prima pagina. La foto del census Italia in letargo. Solo timidi risvegli. Possiamo ora andare alla prima pagina del centro. E quindi iniziamo la rassegna stampa. Dedicata alle notizie che provengono dalla nostra regione. Andiamo a iniziare con la cronaca. Sempre se ci assiste il nostro iPad. Un fatto di cronaca di cui vedremo tra poco anche un servizio realizzato dalla nostra redazione. Ecco qui l'apertura. Presa la banda dei furti nelle case. A Pescara otto romeni e un albanese specializzati in colpi lampo di casse forti. Lo sport sotto la testata come vedete. Assalto allo Spezia. E Oddo chiede personalità al Pescara. E poi ancora nell'editoriale di Bruno Manfellotto. La ripresa. Aspettiamo la primavera. Fotonotizia. Lo chef Romito incanta Pescara con il suo libro. La presentazione in comune. Il libro dal titolo apparentemente semplice. E poi alcuni richiami di cronaca. L'investitore fu fermato con una dose di cocaina contromano sull'asse attrezzato. A Collecorvino maxi furto di marmellata. Colpo da 100 mila euro. E poi in basso i danni dei cinghiali li paga la regione. Nel buongiorno Abruzzo curato da Giuliano Di Tanna. La pagina della regione. Amadori lancia la sfida. Diventa allevatore per noi. Proposta la formula che in Puglia ha già creato un centinaio di imprenditori. Basta avere un terreno ai Pulcini e al Mangime. Ci pensa l'azienda di Mosciano. E poi ancora andiamo a vedere questo caso davvero particolare. A Orsogna. Che pasticcio. Non si trova più la medaglia di Ciampi. Il titolo d'argento conferito per le vittime della guerra. Era il 5 dicembre 2003. E oggi la ricorrenza senza il simbolo. C'è il parere dello storico Marco Patricelli. Vicenda assurda. E simbolo di incuria. E poi ancora Salvini resetta il movimento e dà il via alle alleanze. Sospese le cariche dei coordinatori regionali e cittadini per la riorganizzazione. Arriva il senatore Arrigoni. No a persone che inseguono solo i loro interessi. Allora, ieri c'eravamo anche noi al momento dell'arrivo del senatore Arrigoni che parla di questa riorganizzazione di Noi con Salvini sul territorio abruzzese anche in vista delle prossime amministrative. Vediamo il servizio. Senatore Paolo Arrigoni, oggi a Pescara, si parla del movimento Noi con Salvini e marcia di avvicinamento alle prossime amministrative, anche se l'obiettivo vero sono le elezioni politiche. L'obiettivo principale sono le elezioni politiche. Matteo Salvini vuole un contributo decisivo da parte di questo movimento per le prossime elezioni politiche dove vogliamo assolutamente vincere per governare, per scalzare Renzi. Sappiamo che nella prossima primavera ci sono delle elezioni comunali, 69 comuni in regione Abruzzo che vanno al voto, 4 comuni importanti, proseguiranno i contatti con le altre forze politiche del centro-destra che è il naturale approdo, non necessariamente faremo delle alleanze. Fare breccio in una regione del mezzogiorno qual è l'Abruzzo, comunque di confine non sarà facile. Avete pensato anche a tematiche più propriamente locali per attecchire nella nostra regione? Guardi, in questi mesi Matteo Salvini è venuto più volte in terra di Abruzzo e con i suoi interventi ha sempre raccolto centinaia se non migliaia di persone. Ora questo entusiasmo deve essere canalizzato in questo movimento che vede ben operare da diversi mesi. ci sono diverse persone che ci hanno messo la faccia, sono i pionieri, hanno assunto il ruolo di coordinatori in diverse città, in tutte le quattro province di Abruzzo. Doviamo ovviamente crescere di più dal basso. La pagina di Pescara e Provincia, contromano sull'asse attrezzato, l'incidente occorso giovedì mattina. L'investitore faceva uso di cocaina. Ad agosto D'Amico era stato fermato in via Raiale con una dose accertamenti sulla patente dove è stato l'altra notte. Bara celeste per i funerali a Castellana di Moreno D'Amico e poi oggi l'addio anche ad Alanno a Roberto. Da Pescara partirà anche un autobus della GTM con i colleghi dell'autista di Roberto Gagliardone appunto morto anche egli nel tragico schianto di giovedì mattina. Ancora la cronaca, salti a case e negozi, presa la banda dei furti. Sono otto romeni e un albanese specializzati in colpi lampo a bordo di autopotenti. In quattro minuti portavano via casseforti, macchine e preziosi. E poi ancora l'acrobata passava dalle finestre e poi fuggiva con l'autista. E qui vediamo i volti di questi malviventi che appunto fanno parte della banda, dell'associazione che è stata sgominata ieri dai carabinieri. Andiamo a vedere anche il servizio relativo a questa operazione condotta dai carabinieri. Furti, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, questi reati di cui devono rispondere nove giovani albanesi e romeni arrestati all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara. Le ordinanze di custodia cautelare eseguite nelle ultime ore sono state emesse dal GIP del Tribunale Adriatico Maria Carla Sacco su richiesta del pubblico ministero Barbara Del Bono. Secondo le risultanze investigative i nuovi arrestati facevano parte di un sodalizio malavitoso che si era specializzato nella commissione di furti di casseforti e danni di centri commerciali, gioiellerie e case private, furti di auto utilizzate per i ride, traffico di droga acquistata in Puglia e spacciata anche in Abruzzo. Una decima persona è attivamente ricercata. Questa è un'operazione che è nata innanzitutto da un'intuizione dei carabinieri della Compagnia di Popoli che poi è stata sviluppata da quelli del nucleo investigativo di Pescara anche perché l'attività si è stesa molto in ambito provinciale, regionale e addirittura nazionale perché noi abbiamo individuato questa banda di cittadini romeni e albanesi che razziava un po' la provincia di Pescara ma anche tutta la dorsala triatica arrivando fino al nord-est. Abbiamo registrato anche furti nella zona di Rovigo, di Padova. Non è stato semplice, non è un'operazione tradizionale perché gente che lavora sempre di giorno e di notte lavori intesi rubano e quindi per andarli a prendere, andare a pizzicare non è stato semplice. L'abbiamo dovuti cercare uno alla volta e di volta in volta bloccarli. Quando si sono sentiti braccati per quanto riguarda l'attività di contrasto ai furti hanno cercato di diversificare le loro attività dedicandosi anche al traffico, allo spaccio di stupefacenti attività che è stata comunque monitorata e alcuni di questi sono stagliare stagliate anche in flagranza di reato. Proseguiamo sempre con le pagine di Pescara. Gruppi musicali e moda iniziano le feste in centro prende in via oggi il calendario natalizio stirato dal comune nelle aree pedonali sfilate, spettacoli e personaggi dei cartoni e martedì 8 l'accensione dell'albero. Poi ancora il NAS spiega il doping. Ragazzi non fidatevi, il comandante Candelli a colloquio con gli studenti della scuola media Pascoli le scorciatoie sono un'illusione, lo psichiatra trotta, quei farmaci sono droga. Poi abbiamo visto la fotonotizia in prima pagina, la presentazione con lo chef pienone in comune per il libro di Nico Romito. E poi ancora, sempre la cronaca, furto di marmellata da 100.000 euro a Colle Corvino ripulito lo stabilimento Casa Giulia, rubati migliaia di barattoli prodotti a novembre, carrelli ed elevatori. E poi in basso, Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara più di 5.000 interventi dall'inizio dell'anno. A Montesilvano, veleni in comune e nuovo scontro. Urbanistica, un geometra esaminerà le delibere. Il consigliere Di Battista, eletto presidente della commissione sull'edilizia, ma Agliano lo accusa e un professionista non può assumere l'incarico. La cerimonia, appello di Falcone agli alunni, sogno una società senza omertà. Questo nell'intervento di ieri di Maria Falcone, peraltro cittadina onoraria di Montesilvano. In basso, a Città Sant'Angelo, i politici tornano in aula dopo la lite in comune. E poi, con questa serie di pagine che il centro sta dedicando in questi giorni alla mala scuola, in classe tra muri sfondati e vetri rotti. Viaggio all'Alessandrini di Montesilvano, ecco come è ridotta la sede che la provincia paga 400.000 euro l'anno. Il preside e i nostri alunni trovano subito un lavoro. Il Dascanio aspetta la palestra. Il liceo scientifico di Via Vestina apre 10 nuove aule a tre anni dall'inaugurazione. Andiamo ora nell'area metropolitana. Movimento 5 Stelle contro Luciani. A Francavilla in campo i parlamentari. I grillini fanno i camerieri in pizzeria per raccogliere fondi e fare la campagna elettorale per le comunali del 2016. Ci sarà anche Di Battista. Ancora in provincia di Pescara. Popoli, pasticcere, muore in casa. Trovato dopo due giorni. Commozione per la scomparsa di Emilio Giardini. Aveva 55 anni. Era anche allenatore di basket. Il dolore della società Ops. Andiamo nella pagina di Chieti. La stagione invernale sulla neve. Maielletta si torna a sciare tutti i prezzi degli impianti. Dopo l'apertura delle piste da sci di Passo Lanciano riaprono oggi anche quelle nella parte alta della montagna e lo snow park vicino al rifugio Pomiglio. Domani il tagliando jazz d'inverno. Tanta musica e concorso fotografico. In basso, olio scaricato nel fiume, sigiglia al frantoio. La capitaneria di Porto di Pescara sequestra impianto di molitura di Chieti Scalo e denuncia il gestore. Pagina dell'Aquila, ma siamo in provincia dell'Aquila in realtà. Tagliacozzo, svolta in procura dopo tre blitz in municipio. Appalti e favori indagati. Sindaco e altri quattro. Nel mirino la gestione dell'amministrazione di Marco Testa su eventi e lavori coinvolti imprenditori e un secondo politico. L'Aquila invito a frenare le male lingue. L'arcivescovo Petrocchi basta con il pettegolezzo. E poi in basso, minore ucciso, perizia, inchioda, antidormi. Celano responsabile dell'investimento con fuga che ha causato la morte del 15enne Zaurini. A Teramo, o meglio nel Teramano, a Montorio, l'allerta dopo Parigi. Blitz antiterrorismo con 19 denunciati. I carabinieri perquisiscono pakistani e afghani ospitati in un hotel, trovati documenti falsi e sequestrati i telefonini. Il Teramano oggi accoglie 502 profughi. Sono entrati tutti in Italia da Gorizia. Il procuratore Cardella stiamo approfondendo. E poi in basso, fuggiamo da guerre e vogliamo un futuro. Le testimonianze dopo la notte di controlli. Molti migranti in questi giorni hanno raccolto le olive. Allora, prima di passare al messaggero Abruzzo, io vado a salutare, a dare il buongiorno a Giovanni De Palma. Ciao Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Questa mattina ti dico subito che ho trovato temperature non particolarmente fredde. Confermi? Confermo sì, perché siamo in riva al mare intorno ai 10-11 gradi. Insomma, siamo al di sopra delle medie stagionali, perché da diversi giorni, anzi anche da diverse settimane, fatta eccezione di quella fase di maltempo che abbiamo avuto nella scorsa settimana, il tempo è caratterizzato dalla presenza di un'area di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile, ma ovviamente in inverno l'alta pressione non vuol dire che ci porta il sole. Diciamo che l'accumulo di umidità favorisce la formazione di questi strati luminosi che determinano banchi di nebbia sulle zone alto collinari, le zone collinari, soprattutto sul versante orientale. Localmente c'è anche qualche precipitazione associata, debole piogge o piovigine, ma comunque non si tratta di una perturbazione. Quindi il tempo per oggi sarà ancora caratterizzato dalla presenza di questa copertura nuvolosa, soprattutto sul versante orientale e lungo la fascia costiera, con possibili anche deboli e piovigini, umidità molto elevata e possibili anche banchi di nebbia, soprattutto durante le ore più fredde della giornata. Andrà meglio invece sulle zone montuose, dove nelle prossime ore splenderà il sole e comunque si potrà sfruttare la neve che è caduta la scorsa settimana. Non ci sono sostanziali novità per la giornata odiena, però ti segnalo comunque un graduale aumento della nuvolosità nel corso delle fine settimane, ma soprattutto in prossimità del cosiddetto Ponte dell'Immacolata, perché giungerà un impulso di aria umida proveniente dalla Francia, che riuscirà ad entrare nel Mediterraneo, perché l'alta pressione inizia ad avere segnali di cedimento, soprattutto alle quote superiori, e ciò favorirà comunque la formazione di corpi nuvolosi un po' più consistenti sui nostri mari occidentali, sulla Sardegna tra domenica e lunedì. Poi probabilmente proprio nel giorno dell'Immacolata questi corpi nuvolosi raggiungeranno anche la nostra regione, dando luogo ad annuvolamenti un po' più consistenti, localmente associati a delle precipitazioni, ma non si tratta di una perturbazione particolarmente severa, tutt'al più ecco questo è un disturbo che potrebbe interessarci nel Ponte dell'Immacolata. Andrea. Senti Giovanni, sei pronto per questo pomeriggio? Mi fai anche il pronostico per questo Pescara Spezia? Beh, i pronostici difficilmente li faccio, diciamo che sì, sono pronto, oggi c'è una grande partita contro una squadra che non abbiamo battuto negli ultimi decenni, insomma una squadra che se non ricordo male dagli anni 60, se non è ronda, nessuno ricordo, comunque non abbiamo mai vinto contro lo Spezia in casa, quindi insomma c'è l'occasione buona per tornare alla vittoria, perché ripeto, il Pescara ha le potenzialità per fare bene, anche contro lo Spezia, però ovviamente questa squadra, lo Spezia che è in difficoltà, non bisogna fidarsi, perché ha comunque degli elementi in grado di mettere in difficoltà a qualunque squadra, Andrea. Va bene Giovanni, buona giornata e buona partita. Grazie Andrea, una buona giornata e un buon fine settimana a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma, riprendiamo con la nostra rassegna, con le pagine del messaggero Abruzzo, intanto con la prima pagina. Furti in casa, stop alla gang, i carabinieri arrestano nove stranieri che nel 2015 hanno fatto razzie in regione base a Pescara, due donne nel gruppo in quattro minuti sradicavano una cassaforte. Poi l'Aquila, salvati i soldi europei per le fontari, vasto la onlus dei rifiuti indagati, la penna e tutta la giunta. Sotto la testata, giorno e notte, Pescara, l'Aquila e Teramo, via agli eventi natalizi, Sport, gli anticipi, calcio, l'Aquila sconfitta a Siena, basket, Roseto, Cinquina a Jesi, il salvataggio, nuova Carichietti in Mordino, forse 60 esuberi, bastano obbligazioni in fumo, e il salva risparmiatori, potrebbe scattare un fondo di solidarietà, nasce un comitato all'Aquila, per il fronte di Banca Etruria. E poi, di spalla, Montorio Alvomano, blitz antiterrorismo, irruzione notturna del Ross, trovati i passaporti falsi, a pakistani e afghani. La fotonotizia, calcio di serie B, Pescara e Lanciano, l'ora della verità, delfino in casa con lo Spezia, Virtus a Novara. E poi, sul Monese, tra le prime 100 donne del digitale. in basso, Chieti e Pescara, liquami nel fiume. Entriamo all'interno del messaggero Abruzzo, il governo ci ripensa, salve le prefetture di Chieti e Teramo. Soddisfatti, sindacati e comitati di primio, risultato di grande importanza, Brucchi, evitato un pericoloso deficit di sicurezza. E poi ancora, la tragedia dell'asse, Castellana e Pianella, i giorni del dolore, relazione della Polstrada al PM, sull'immissione in contromano di D'Amico. Andiamo all'Aquila, se Giovia Fontari, salvi i fondi europei, l'ok del Comitato Via della Regione, consente di sbloccare la gara d'appalto, da 6 milioni di euro per eseguire i lavori. Il tracciato dovrà essere ricondotto a quello già esistente. Il progetto poi dovrà nuovamente essere sottoposto a esame. Sultano gli ambientalisti che promuovono l'intesa con l'Olli, evitate conseguenze devastanti. Il Comune, stanzi e finanziamenti, la stagione scistica del Gran Sasso, parte domani. Allora andiamo a vedere il servizio confezionato ieri dalla nostra redazione aquilana. Weekend con gli sci anche negli impianti di Campo Imperatore, conferma l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso, Fulvio Vincenzo Giuliani. Ed è già una notizia, visti i ritardi degli anni passati, le polemiche sul destino della stazione scistica, tra debiti della società, difficoltà a finanziare gli investimenti da 40 milioni di euro già disponibili, lo scontro al calor bianco tra il partito della tutela ambientale e quello che vorrebbe eliminare i vincoli che ostacolano lo sviluppo infrastrutturale dell'impianto. In questo momento c'è l'urgenza di aprire, siamo riusciti ad aprire, da sabato e domenica gli impianti saranno aperti, la gestione degli impianti rientra nella normalità e anche noi, così come le altre stazioni, siamo in condizione di far sciare chi vorrà nel fine settimana, con la differenza che è qui però la neve naturale. Oggi in commissione al Comune dell'Acoli è stato intanto formalizzato lo stanziamento da 120 mila euro per la manutenzione della seggiovia Fonta di Campo Imperatore e della seggiovia Scindarella. E a proposito della Scindarella, Giuliani conferma che la società in audizione alla Commissione Via della Regione ha proposto di sostituirla lungo lo stesso tracciato. Non è che la via ha bocciato la Scindarella, siamo stati noi che in audizione abbiamo chiesto, rispettando la volontà è stata espressa da molti la costruzione del nuovo impianto delle fondari sul vecchio tracciato. Quindi in realtà il progetto di sostituzione letterale così come è stato richiesto e noi abbiamo consentito di fatto continua. Abbiamo espresso tenendo conto proprio del parere dell'opinione pubblica di alcune posizioni molto forti che consideravano l'allungamento della seggiovia una devastazione ulteriore di quell'area abbiamo considerato queste posizioni e ci siamo in qualche modo non dico adeguati ma ne abbiamo fatto tesoro riproponendo la soluzione di quell'impianto in una forma che in qualche modo è approvata da tutti. Restiamo nell'Aquilano con le pagine del messaggero Abruzzo riapre i battenti lo storico rifugio di Monte Cristo ospiterà i turisti il giovane imprenditore Ivan Guetti ha preso in gestione il ristorante Banca Etruria ha costituito il comitato adesioni anche dai risparmiatori del Lazio si prevede una lunga battaglia sempre all'Aquila Natale in città arrivano le renne vere sono più di 200 gli eventi in cartellone al via oggi e fino all'epifania messi insieme grazie alla rete di associazioni fra le novità annunciate dall'assessore Betti Leone c'è anche una più stretta collaborazione con gli albergatori gli appuntamenti quest'anno sono distribuiti fra le frazioni e lungo il corso del centro storico poi ancora il rapper Fedes e i DJ animano la notte al Bliss andiamo ora nella Marsica ad Avezzano nuova giunta tra i veleni Casale contro Ceglie ormai è tutti contro tutti sconfessato dalla Chiavaroli il nuovo gruppo di area popolare appena formatosi in comune l'ex segretario CGL attacca ormai è guerra aperta il segretario PD a sua volta contesta anche la Pezzopane andiamo a Pescara furti in case ville e negozi nove arresti dei carabinieri sgominata la banda di otto romeni un albanese un altro è ricercato hanno lasciato tracce nel pescarese in altre regioni tra loro un'acrobata in quattro minuti sradicavano una cassaforte dopo inglesione del NAS i ragazzi della Pascoli il capitano Candelli ha illustrato i pericoli di tali sostanze poi ancora ladri di marmellata in azione colpo grosso a Casa Giulia boom di consulenze dal portale Adia Incubator avanti ancora in provincia di Pescara bussi disoccupati con la gatta e contro il PD serve lavoro fantocci in tuta blu simbolo della battaglia per riaprire la fabbrica sotto accusa l'eventamento di Castricone che farebbe saltare l'intesa con Filippi per il dopo Solvay a Chieti nuova Carichieti in Mordino forse 60 esuberi possono bastare stiamo studiando cliente per cliente per valorizzare l'ipotesi del salvataggio i nuovi capi di staff sono quelli delle gestioni di prima ma il clima è cambiato Prometeia ha lavorato per la fondazione ora agiamo in un quadro normativo per molti versi completamente rinnovato questo appunto quanto afferma l'amministratore delegato andiamo avanti con la pagina della provincia di Chieti siamo nel Vastese strade a pezzi i sindaci bloccano l'Adriatica mattinata di tensione poi tutti dal prefetto in serata arriva D'Alfonso poi ancora sempre a vasto rifiuti sequestrati due mezzi indagato anche la penna in tutto sono 15 le persone interessate tutto nasce dalla Onlus Baschi Azzurri siamo a Teramo arriva l'albero via agli eventi capodanno nella sala ipogeo la bete offerto da Tercas Popolare di Bari da oggi mostra mercato e notte d'autore intrattenimento musicale per quattro giorni ed esposizioni di artisti locali comune tra le polemiche solo patrocinio per le associazioni e contributo al concerto della Musini Luca Antoni arriva dalla fondazione e poi ancora l'IZS giovedì potrà avere il suo direttore generale fugati per ora i dubbi di un'eventualità commissariale che pende sul lente in basso sciopero mensa previsti disagi per i bambini l'oretone della Filcams risultano problemi relativi a pagamenti da parte del comune andiamo a chiudere con la provincia di Teramo a Giulianova strutture in perdita il comune si prepara tagli eccessioni in lista mercato ittico asino nido piscina e palacastrum ora si procederà con bandi per l'affidamento all'esterno dalla regione buone notizie terzo in gradatorio all'ufficio unico di progettazione e programmazione poi c'è questa foto preso con 7 chili di marioana lotta al narcotraffico dunque colpo effettuato in questo caso dalla guardia di finanza preso fatto questo sequestro allo svincolo di Mosciano della 14 blizza antiterrorismo a Montorio irruzione notturna dei carabinieri del Ross in hotel trovati passaporti falsi a pakistani e afghani per ora ci fermiamo è il momento di andare in pubblicità dopodiché riprenderemo con le pagine della città e le pagine dello sport e anche alcuni servizi seconda parte di mattino 6 riprendiamo con le pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo ecco l'apertura blizza antiterrorismo tra i migranti carabinieri nell'albergo di Montorio che ospita afghani e pakistani 18 avevano i documenti falsi sotto la testata la prefettura di Teramo è stata messa in salvo con un emendamento alla legge di stabilità di spalla allarme ambientale 400 firme per denunciare la puzza al cirsu tortoreto rapina a mano armata e fuga in bicicletta a Montorio al vomano la protesta anti autodromo scende in piazza incentivi ai volenterosi disposti a salvare Tercas la proposta sconti alle banche che aiuteranno a costituire il fondo di garanzia bis poi in basso teatro l'amore forse migliora la vita Eleonora Ivone sul palco di Atri per lo sport Giulianova ecco i nuovi colpi di Serraiocco all'interno della città intanto la pagina sulla regione Abruzzo Renzi impugna la legge anti-trivelle per il consiglio dei ministri invade le materie di competenza statale insolgono gli ambientalisti e la sinistra il provvedimento la legge regionale abruzzese dispone il divieto di attività di ricerca prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico entro le 12 miglia e poi ancora la demolizione le paiotti il consiglio di stato dà ragione al comune respinto il ricorso della proprietà in basso record di piante il parco Granzasso Monti della Laga batte tutti sono 2.561 quelle registrate nessun'altra area naturalistica in Europa ha una varietà floristica simile e poi per la politica noi con Salvini a Rigoni in Abruzzo in vista con vista sulle amministrative la prefettura messa in salvo in finanziaria in un emendamento alla legge di stabilità firma Tancredi e Melilla sarà ritirato il decreto di chiusura per 23 sedi soddisfatte le sigle sindacali per aver salvato 1300 posti di lavoro annullata la manifestazione prevista a Roma l'11 dicembre poi l'operazione antiterrorismo blitz del ROS tra i rifugiati nell'albergo di Montorio 18 denunciati trovati afghani e pakistani con documenti falsificati con la stessa tecnica già utilizzata da terroristi islamici confusi tra i rifugiati l'ordine da Roma ieri notte 60 carabinieri guidati dal reparto operativo di Teramo hanno circondato l'albergo e sequestrato documenti telefonini e appunti in lingua araba ragazzi tranquilli che non hanno mai procurato problemi gli albergatori che ospitano i migranti stupiti dall'operazione dei carabinieri e poi come abbiamo visto anche in questo caso in prima pagina incentivi ai volontari Salva Tercas in finanziaria spunta un sub-emendamento PD per invogliare le banche ad aderire al fondo BIS proposta Pelillo permetterebbe alle banche di dedurre gli aiuti concessi a Tercas aderendo al fondo volontario di salvataggio poi Baltur lancia i viaggi bus più aereo la società Teramana ha stretto un accordo con la compagnia Emirates per Asia e Medio Oriente Università Geopolitica e Migranti Fini ospite dell'Ateneo Gianfranco Fini la prossima settimana affittati i locali dello IAT se li è giudicato un imprenditore del settore bar e ristorazione la provincia vende anche un terreno a colonnella in contrada vibrata e un distributore di gas poi menze comunali le cuoche scioperano per gli stipendi il comune non avrebbe ancora pagato la PAP a Teramo mezza retromarcia sui paletti dissuasori le proteste dei commercianti convincono il sindaco eliminati solo 4 stalli rispetto a prima siamo in provincia di Teramo la protesta anti-autodromo scende in piazza questo pomeriggio a Montorio al Vomano la manifestazione contro la realizzazione del circuito del Gran Sasso appuntamento alle 14 in Largo Rosciano da dove il corteo si muoverà verso piazza Orsini dove fino alle 23 si terranno dibattiti e concerti i centri prelievi riaprono entro Natale soluzione tamponi in attesa dei lavori di ristrutturazione da 350 mila euro l'incontro i sindaci della Valfina e Luciano Monticelli hanno incontrato il manager della ASD Fagnano e Valerio Profeta la cronaca a Tortoreto rapina a mano armata e fuga in bicicletta due stagneri assaltano un comprooro bottino di 15 mila euro e come abbiamo già visto in Pacenza fermato al casello con 7 kg di droga la Guardia di Finanza arresta un albanese con l'accusa di spaccio esposto dei cittadini contro la puzza al Cirso il comitato raccoglie 400 firme e si rivolge alle istituzioni la politica anche la Roseto progressista sta con Rosaria Ciancaione questo pomeriggio la presentazione ufficiale della lista con Valentina Vezzali per la cultura l'amore forse migliora la vita Eleonora Ivone lunedì sul palco di Atri una commedia tra giovani e adulti e andiamo ad aprire la pagina dello sport intanto con la città e con le parole del tecnico del Teramo Vivarini che dice fuori casa non è il mio Teramo il tecnico dei Biancorossi chiede continuità ai suoi anche lontano dal Bonolis a Lucca dobbiamo invertire il trend i campionati si decidono nel girone di ritorno e sono sicuro che lì faremo molto bene sul maestro Sarri mi fa sperare di poter ambire ad allenare una grande squadra appunto Sarri il modello a volte ci sentiamo quando ho qualche problema a vederlo in testa la classifica una soddisfazione Pallamano Gommè Urteramo stasera la sfida contro Conversano e poi la serie D il Giulianova presenta i colpi inizia l'era di Serraiocco presentati nella sede di Giuliesi per sempre i primi arrivi in casa giallorossa saranno disponibili già da domenica poi c'è anche la partnership l'anno zero service si occuperà del settore marketing per l'amministratore Paolini non è da escludere per il futuro anche l'azionariato popolare questi sono i nuovi acquisti del Giulianova vediamo Straccia Mancini Pellecchia nell'altra pagina ci sono anche Alessandroni e Sbaraglia poi per sempre la serie D Epifani la Samb si può raggiungere ed è caccia all'ex capitano del Teramo Bucchi il campionato non è affatto chiuso lo dice l'allenatore San Nicolò Epifani ma tornando alla presentazione ieri della nuova partnership dei nuovi giocatori del Giulianova ascoltiamo l'intervista al neopresidente Vincenzo Serraiocco Vincenzo Serraiocco oggi venerdì 4 dicembre possiamo dire che per Giulianova e per il Giulianova inizia un'altra storia si si l'avevo già promesso ai tifosi un mesetto fa quando eravamo in grossa difficoltà ho detto datemi fiducia siamo insieme uniti insieme nel Fadini anche domenica ne voglio tanti e voglio tanti per supportare questo Giulianova inizia un nuovo cammino e non finiremo qua siamo stati i primi che hanno preso 4 giocatori importanti di peso di categoria e anche oltre siamo in trattativa con altri giocatori con il direttore generale che ho sentito quotidianamente anche quando ero fuori pensiamo di dare un buon inizio se non un inizio importante a questa città che ritorni alle categorie che merita oggi soffriamo fino a maggio soffriremo soffriremo nel senso che dobbiamo vincere per salvarci il prossimo anno invece vinceremo per fare qualcosa di più importante senta ma è vero che per Ganci la strada poi non è così in salita come si pensava fino a qualche giorno fa assolutamente no Massimo è un giocatore che a me piace tanto dal punto di vista sportivo nonché anche personale una persona che sento quotidianamente al telefono ci tiene ci tiene a ritornare in Abruzzo ci tiene a ritornare a Giulianova e spero che possa portare i colori del Giulianova Ganci Giglio chi è più vicino oppure tutti e due Ganci Giglio ce ne sono ancora altri sono tutti vicinissimi poi deciderà il Giulianova c'è anche la presentazione di un nuovo sponsor l'anno zero service che vi darà una mano in questo progetto nuovo l'anno zero service è una realtà imprenditoriale di livello nazionale di cui mi stringe un rapporto di amicizia sono contento che hanno scelto di essere vicino al Giulianova non me lo aspettavo quindi li ringrazio doppiamente per il fatto che si avvicina a una città così piccola per una società così grande vediamo la prima pagina della gazzetta dello sport prima di proseguire con le pagine sportive locali Rullo Juve all'Olimpico batte 2 a 0 la Lazio di Bala Fenomeno quinta vittoria di fila l'argentino il migliore ma in rete per la settima volta in campionato Bianconeri a 4 punti dalla avetta il commento di Alessandra Bocci Allegri e il fattore Mangiukic c'è il nuoto sotto la testata fantastico Paltrinieri impresa agli europei in vasca corta oro e record sui 1500 guardiamo qui 14 minuti 8 secondi 6 centesimi e il tempo di Gregorio Paltrinieri 21 anni nei 1500 in vasca corta battuto il primato di Hackett che resisteva dal 2001 complimenti a Paltrinieri tornando alla serie A di calcio Mancini lancia l'Inter col Genoa e punge Icardi giochi per la squadra altrimenti può restare in panchina Nerazzurri in campo al 20.45 con Melo l'intervista Pellegrini compie 75 anni Stimo Toir sogno CR7 il caso Monaco e il Sharawi fuori per scelta tecnica e poi in basso Ventura volo senza vertigini a carte scoperte con l'allenatore del Torino oggi alle 15 sfida la Roma ai giocatori e al presidente Cairo dico sempre la verità Fiorentina domani Ludinese c'è Rossi che chiede spazio e poi alcuni richiami il fratello di Higuain gioca e tifa dagli Stati Uniti sono Fiero di Gonzalo riecco sua maestà Von a Lecluis in discesa conquista il 68esimo successo e la Renault è tornata in Formula 1 2 miliardi per vincere e vuole Alonso nel 2017 questa dunque la prima pagina della Gazzetta dello Sport torniamo ora a vedere le pagine dei quotidiani locali partendo dal centro e chiaramente dal Pescara alla riscossa Oddo Pescara serve personalità dopo il K.O. di Cesena torna Fiorillo tra i pali contro lo Spezia il tecnico temo il mercato perché potrebbe destabilizzare lo spogliatoio Cocco in partenza a me non ha chiesto di andare via Valotti è scontento io non boccio nessuno e andiamo a vedere le possibili formazioni della partita di questo pomeriggio all'Adriatico Cornacchia Pescara Spezia con Fiorillo tra i pali Zampano Zuperic Fornasier e Crescenzi in difesa Verre Mandragora Memusciai in mediana Benalì dietro la padula e Caprari in sostanza lo stesso undici che ha perso a Cesena con l'eccezione del ritorno tra i pali di Fiorillo con Aresti che torna dunque in panchina nello Spezia manca Calaio manca della Squevas questo l'undici probabile Cicizoni in porta poi Valentini terzi postigo e migliore in difesa Ciurria Bredovec a campo Raishitum nella linea dei quattro centrocampisti e davanti Nenè con Catellani Ancora su questa partita il calendario ora può essere un alleato il Pescara fino alla fine dell'andata affronterà squadre alla portata Oddo ha la possibilità di fare meglio di Marino 34 punti due anni fa e Baroni 28 punti lo scorso anno e ne parlava prima nel collegamento Giovanni De Palma i Biancazzurri non battono i Liguri in casa da 66 anni Di Carlo rilancia Catellani al fianco di Nenè in attacco e allora andiamo a vedere andiamo anche ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Oddo ieri nella conferenza stampa prepartita Io non ho problemi non mi crea problemi perché comunque sia noi abbiamo fatto abbiamo fatto questi punti fino ad ora con questi giocatori e tutto sommato quello che ho sempre detto lo confermo che noi abbiamo grandi margini di miglioramento stiamo lavorando per questo tanto sul campo per migliorare per cercare di sbagliare di meno ma io credo fortemente in questo gruppo credo fortemente nei giocatori che ho in questo momento quindi poi si sa che arrivi a un certo momento in cui a pochi giorni dal mercato non è tanto il giocatore che deve arrivare che si incomincia a parlare di giocatori che devono arrivare e quant'altro ma è anche giocatori che magari incominciano a voler andare via o incominciano a pensare di voler andare via e quant'altro quindi inevitabilmente vicini al mercato si perde un pochino di vista quello che è l'obiettivo fino a quando poi non si riapre il mercato poi con certezza non posso saperlo ma è inevitabile che tutti i giocatori vorrebbero giocare sempre ma non è possibile 11 vanno in campo 9 in panchina e il resto vanno in tribuna quindi inevitabilmente come in ogni squadra ci sono giocatori che hanno più spazio altri che hanno meno spazio però per me questi ragazzi che ho qui sono tutti importanti penso che bene o male quasi tutti hanno avuto l'opportunità c'è chi l'ha sfruttata di meno chi l'ha sfruttata di più però sono momenti del calcio in questo momento ci sono più o meno quegli 11 che stanno giocando di più ma non è detto che fra qualche giornata magari altri che hanno avuto meno scena fino a questo momento ne possano avere di più ma questo dipende molto da loro i giocatori sono qui sono tutti stati scelti dalla società da me perché eri ritenuti funzionali a questo progetto poi molto dipende da loro hai captato qualche mal di pancia in questo momento sul messaggero Abruzzo obiettivo quota 30 Oddo fissa il traguardo per il giro di Bo e carica i suoi per la gara con lo Spezia preoccupato solo per le voci di mercato i Liguri sono forti e Di Carlo è esperto ma noi possiamo giocarcela con tutti Fiorillo tra i pali con una maschera protettiva Baroni Lanciano nessuno ha chiarito perché sono andato via si riapre sempre questa pagina quando Baroni sfida la Virtus il tecnico torna al Biondi con il Novara in realtà la partita si gioca a Novara c'è Vastola dal primo minuto vediamo le possibili formazioni con il titolo anche del centro Vastola guida il Lanciano all'assalto dell'ex Baroni voglia di rivalza e fame di punti le motivazioni in più dei frentani a Novara o meglio le probabili formazioni Virtus con Casadei Pucino Rigione Aquilanti e Mammarella Paghera Bacinovic e Vastola Piccolo Marilungo dietro la punta Padovan per il Novara da Costa tra i pali difesa a quattro con Garofalo Poli Lex Tröst e Faraoni l'altro ex Casarini in mediana con Viola e poi Galabino Gonzales e Farago dietro la prima punta Corazza ancora la Lega Pro l'Aquila ingenua l'errore di Zandrini fa felice il Siena e il Rosso Blu vanno sotto poi pareggiano con Piva ma il portiere sbaglia e si fa espellere Tris dei Toscani puniti per le imprecisioni risultato giusto dice il tecnico aquilano Carlo Perrone e poi ancora nelle pagelle Bigoni non convince San Domenico generoso sulla fascia ma c'è il voto 4 per il portiere Zandrini ovviamente a causa dell'errore che stiamo per vedere voti nel complesso bassi il migliore Piva 6,5 allora andiamo con gli highlights di questa partita che si è giocata ieri sera l'Aquila con Bigoni Maccarrone Cosentini e Piva in difesa Benzaia davanti alla linea dei difensori San Domenico De Francesco Milicevic e Triarico dietro l'unica punta perna 4-1 4-1 il modulo scelto da Carlo Perrone nel Siena 3-5-2 per l'esordio sulla panchina senese del tecnico Guido Carboni e qui vediamo il fallo di Bigoni che origina il calcio di rigore con cui il Siena andrà a sbloccare il risultato il fallo di Bigoni ai danni di Bastoni e l'ex Lancianese l'ex Savona anche De Feo trasforma questo calcio di rigore con un tiro potente ma centrale Zandrini viene spiazzato dal tiro di De Feo che qui andiamo a rivedere poi l'Aquila prova a rispondere l'Aquila nel compresso giocherà comunque una discreta gara ma sarà punita dalle tante incertezze difensive dai tanti errori come sottolineato dall'articolo che abbiamo visto dal tecnico Perrone questo è un tiro di San Domenico che finisce di poco al lato poi il cross di Masullo e la rovesciata molto bella di De Feo con la parata in due tempi di Zandrini la risposta dell'Aquila con questo capovolgimento di fronte San Domenico per Triarico che entra in area il suo sinistro è debole viene bloccato dal portiere del Siena ovvero Bindi questa è un'altra soluzione di De Feo e siamo nel secondo tempo con questa azione di prepotenza portata avanti da Sasilotto e la parata di Zandrini il cross dalla destra di San Domenico il tacco di De Sousa poi Piva arriva in corsa tiro leggermente deviato e palla in fondo al sacco spiazzato Bindi con De Sousa che era entrato in capo al posto di Milicevic al primo della ripresa rivediamo il cross di San Domenico la bella sponda di Tacco di Simone Piva e poi di Claudio De Sousa per Simone Piva il cui tiro ha una leggera deviazione deviazione probabilmente di Portanova spiazzato Bindi ma guardate cosa combina Zandrini sbaglia tutto nel controllo o meglio voleva rischiare un dribbling ai danni di Bonazzoli che invece approfitta dell'errore dell'estremo difensore Aquilano che poi commette fallo guardate qui goffo tentativo di dribbling su Bonazzoli arriva il fallo rigore ed espulsione qui sostanzialmente si decide la partita entra Savelloni tra i pali al posto di Perna ma Savelloni viene bruciato dal sinistro di De Feo doppietta di rigore dunque per il giocatore ex Virtus Lanciano che è entrato in campo al nono minuto al posto dell'infortunato Mendicino qui subito in dieci uomini l'Aquila ha la chance per il pareggio con San Domenico che salta a Bindi ma da posizione molto defilata mette in mezzo non tirando in porte c'è il salvataggio qui c'è una palla persa che dà origine al gol del 3 a 1 lo va a segnare Bastoni dopo un liscio piuttosto goffo dell'ex Libertazzi che era entrato in campo al posto di Bonazzoli che si è infortunato proprio in occasione del fallo da rigore commesso da Zandrini questo dunque è il gol di Bastoni dopo questo replay possiamo rientrare ecco qui la sassata che chiude la partita prima di chiudere la nostra rassegna stampa spazio alla McKenery Roseto per il basket di A2 un Roseto che non si ferma più gli Sharks vincono anche agli esi trascinati da Allen Trullo parla di momento magico 37 i punti di Byron Allen 23 quelli di Kyle Weaver vittoria 85 a 108 sul parquet dell'Aurora Iesi anche sul messaggero vediamo irresistibili Sharks Cinquina Iesi 85 a 108 un Allen da paura 37 punti trascina Roseto alla vittoria finiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti col TG alle ore 14 alle ore 19 alle ore 23 ma chiaramente sarà un sabato caratterizzato dalle partite di serie B quindi intorno alle 15 diretta a stadio con fari puntati su Pescara Spezia e Novara Virtus Lanciano e poi questa sera intorno alle ore 20 la trasmissione a lato B condotta da Jacopo Forcella grazie a Gianni Dario in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti